Come è il problema dei materiali moderni? Come è il problema dei materiali moderni? Come è il problema dei materiali moderni? Se pensiamo all'arco che resiste solo a compressione, questo riesce a coprire delle luci enormi pur non resistendo a trazione. Così il legno col quale si riescono a fare dalle porte, alle finestre, ai pavimenti, ai tetti e ai solai. Il materiale moderno nasce invece con una concezione diversa, ho un'esigenza, ho un bisogno, ti invento una cosa nuova che non esiste sul mercato, però che non è neanche collaudata. Che poi se ogni problema lo risolvo con un materiale diverso, se faccio ad esempio un pannello di chiusura, faccio la struttura portante, faccio la coibentazione, faccio l'impermeabilizzazione, questo deve funzionare come sistema. Non funziona più come elemento unico come era la muratura di una volta, quindi crea una serie di problemi che vanno analizzati, vanno capiti e penso che queste giornate della bioecologia siano molto importanti per mettere a confronto due mondi. Quindi quello storico in cui si ragionava con la compatibilità con le cose della natura e questo moderno in cui si inventano cose nuove ma che devono rispettare poi questi aspetti. Quindi ritengo che questi incontri siano fondamentali per il dibattito.